La sanità calabrese si appoggia su un corposo cuscinetto rappresentato dalle strutture private che come è noto sopperiscono alle insufficienze della rete pubblica. Ma come spesso accade tra le direttive nazionali del governo e l'applicazione reale sul territorio non c'è piena sintonia ed il sistema sanitario, quello che dovrebbe dare pieno diritto a tutti di essere curati bene, va in tilt. A Catanzaro sette sigle che rappresentano le strutture private hanno incontrato i giornalisti per implorare il governo ad aumentare i finanziamenti e garantire così i livelli di assistenza territoriale. Sulla sanità e sul diritto alla salute non si scherza perché non vedo il motivo per cui un calabrese non debba avere gli stessi diritti di un cittadino nato in Emilia Romagna o in Lombardia. per cui concordo pienamente con lei su questo. Noi oggi stiamo facendo questa conferenza stampa perché è necessario un atto di programmazione finanziaria, altrimenti il fabbisogno dell'assistenza territoriale non può essere garantito. Siamo ad una copertura del 75%, servono altri 30 milioni di euro per arrivare al 100% del fabbisogno. Questo significerebbe che cosa? Significerebbe anzitutto garantire ai cittadini un intervento immediato in termini di assistenza sanitaria, significerebbe garantire al cittadino una libera scelta del luogo di ricovero e in più significerebbe evitare ricoveri impropri negli ospedali, quindi occupare posti letto in maniera impropria. Noi chiederemo un incontro al Ministro affinché venga raccolto il nostro appello e andremo ad esporre al Ministro le nostre verità. Il primo interlocutore di questo denuncia appello dove si trova? A Palazzo Campanella, a Germaneto di Catanzaro o al Governo? Io ritengo che questo deve essere un percorso da fare insieme alla struttura commissariale. Noi dobbiamo essere di supporto alla struttura commissariale. La struttura commissariale senza le risorse finanziarie non può fare nulla. Quindi è importante aiutare la struttura commissariale ad essere messa nelle condizioni di poter lavorare al meglio. In Calabria da diversi anni assistiamo a una situazione particolare e cioè in Calabria fa bisogno di prestazioni territoriali e quando parliamo di prestazioni territoriali parliamo di prestazioni rivolte a soggetti autistici, prestazioni rivolte a malati terminali, quindi gli hospice, i presidi di riabilitazione extraospedaliera, le case protette, le RSA rivolte ad anziani e disabili. Esiste un fabbisogno che viene stimato in Calabria e che porta ad un determinato numero di prestazioni accreditate. Accreditate significa che sono nelle condizioni di poter erogare prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale. Purtroppo però in sede di stipula di convenzioni annuali le aziende sanitarie non sono nelle condizioni di poter acquistare tutte le prestazioni accreditate perché non vengono dotate della necessaria copertura economica per poterlo fare. Questo quindi porta ad una situazione drammatica in Calabria e di difficoltà perché le prestazioni territoriali che rientrano nel fabbisogno stimato dalla regione e approvato ovviamente dai tavoli ministeriali perché come sapete la sanità in Calabria è commissariata, quindi viene approvato e però purtroppo non corrisponde a quello che effettivamente viene posto a disposizione della collettività.